Raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi non sarà possibile senza una drastica riduzione delle emissioni di gas serra del 55% fino a 2030 e la piena neutralità climatica entro il 2050. Inoltre lo stop in Europa alle vendite di tutte le auto a motore endotermico e cioè diesel e benzina prevista per il 2035 assieme all'attuale crisi energetica e alla scarsità dei componenti stanno creando situazioni di stallo nelle imprese del settore dell'indotto che vogliono invece trovare soluzioni nuove e prospettive di crescita. Se ne è discusso nella sede di Confindustria Chieti-Pescara dove il presidente Silvano Pagliuca ha illustrato le problematiche del settore automotive e le proposte dell'associazione assieme ad alcuni rappresentanti delle grandi imprese del territorio. Non è una transizione che possiamo definire dolce ma le aziende hanno intenzioni serie di perseguire questi obiettivi. Chiaramente una serie di imprevedibili situazioni e mi riferisco a quello che sta accadendo ad esempio nel caso energetico e quindi del costo del gas stanno ponendo temi oramai che non sono più rimandabili e soprattutto dobbiamo mettere in campo una serie di azioni che in parte possono essere di livello regionale, sicuramente in gran parte nazionali e sovranazionali ma abbiamo bisogno di una strategia che al momento ci sembra manchi. Quello che sicuramente invece riguarda l'Abruzzo in maniera più importante è che il valore di questo comparto pesa molto sul PIL della regione Abruzzo. Stiamo parlando di un comparto che pesa l'11% del PIL della regione e quindi un valore molto importante, il 55% dell'export e quindi sono dati che da una parte ci dicono dati importanti e anche positivi guardandoli da un altro punto di vista ma questi stessi dati ci preoccupano perché se venisse meno questo sistema economico la regione sarebbe molto più povera. Ci sono dei colossi in Abruzzo per quanto riguarda l'automotive, questa transizione ecologica è iniziata, sta iniziando, sarà difficile? Cosa? La riconversione avrà delle difficoltà? Allora sì sicuramente, infatti quando mi riferisco a una strategia è che dobbiamo creare le condizioni per far sì che le aziende non solo rimangano ma possono arrivare delle altre. Abbiamo anche delle buone notizie, l'insegnamento della Gigafactory di Stellantis a Termoli per la produzione di batterie, questo non basta perché abbiamo dei problemi che con il PNRR stiamo affrontando, mi riferisco ovviamente alla questione importantissima delle infrastrutture che mancano ma anche e soprattutto sbloccare tutte quelle richieste che afferiscono al bando PORFESR 2014-2020 che riguardano i sistemi di produzione rinnovabili. Questo è un dato molto importante perché pensate che a livello nazionale su 209 progetti di impianti eolici la commissione di valutazione del Ministero della Transizione Ecologica ha praticamente approvato solamente 6 progetti 41 bocciati e il resto neanche presi in esame. Quindi il tema è che da una parte manca l'energia e dall'altra non stiamo facendo nulla per favorire invece questo cambio.